Salmo 38, Salmo di Davide. Anche questo Salmo ci porta una nota in più spirituale per la nostra vita. Comincia così. Signore, non punirmi nella Tua collera, non castigarmi nel Tuo furore. Le Tue frecce mi hanno trafitto, la Tua mano mi schiaccia. Per il Tuo sdegno nella mia carne non c'è nulla di sano, nulla intatto nelle mie ossa e così via. Continua con questo ritmo dove si vede Davide che riconosce la sua colpa e come questa colpa lo ha prostrato psicologicamente e fisicamente. C'è un brano che descrivendo questa prostrazione di Davide dice che lui camminava curvo e accasciato, era triste. I suoi generali, i capi degli eserciti, uomini valorosi camminavano accanto a lui e vedendo lui accasciato e triste tutti quei valorosi erano accasciati e tristi. Perché era accasciato? Perché ne aveva visto di tutti i colori. Ma in quel momento particolare era il figlio che lo perseguitava e lui è fuggito. È fuggito perché non voleva che il suo esercito si scontrasse con i guerrieri di suo figlio perché non voleva che Assalonne fosse ucciso. Così che lui chiamava tantissimo Assalonne, sebbene ricambiato con il male, ecco che è prostrato profondamente, tradito dai suoi amici e ripensa al proprio peccato. Perché lui ha peccato gravemente. Dice sicuramente saranno state le mie colpe, Signore, non castigarmi. Manifesta al Signore questo stato d'animo suo. Però nel versetto 10 dice Signore è davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito non ti è nascosto. Tutta questa sua realtà, la considerazione del passato, del presente, la mette davanti al Signore. E questo diciamo fa la differenza dell'uomo credente e dell'uomo non credente, del peccatore credente e del peccatore non credente. Nel peccatore non credente c'è semplicemente il rimprovero della propria coscienza, la solitudine. Davide, invece, anche se la sua storia era particolarmente dura e il momento che stava attraversando era grave, mette davanti al Signore tutti i suoi dubbi, tutte le sue cose, i suoi peccati, tutto li mette davanti a lui. Dice non ti è nascosto niente di me, non ti è nascosto niente, anche se adesso sono solo. Le ferite del suo cuore lui li paragona a delle piaghe. Il peccato ha delle conseguenze, chiaramente, anche psicologiche, fisiche, donate al Signore, acquistano un altro significato e un altro senso. Sebbene Davide ancora non poteva immaginare la venuta di Dio incarnato, la venuta di Gesù Cristo che si è addossato su di sé tutte le colpe e tutti i peccati per liberare l'uomo dalla colpa, per renderlo di nuovo unito con Dio malgrado il peccato, il peccato confessato, dichiarato, esposto. Questa è la chiave storica, che è quella di Davide. Ma questo Salmo, letto nella chiave personale, ha come tema la condizione del peccatore. La volta scorsa abbiamo parlato del peccato degli altri e come questo peccato degli altri influisce nella nostra vita, ci fa tanto male. C'è da considerare che ci sono anche i nostri peccati che ci possono fare tanto male. E' importante intanto stabilire che cos'è il peccato. Per molti il peccato è una trasgressione ad una legge scritta. Il peccato, per capire il senso profondo, bisogna andare nel libro della Genesi. Il peccato, cioè dire la separazione da Dio, lo staccare la propria vita dalla sua radice che è Dio creatore, ci ha creato Dio e ci ha creato per amore. Una volta che l'uomo taglia questo filo di verità da cui è stato tratto, ecco che rimane solo. Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Perché ti nascondi? Perché associ la nudità al peccato? La solitudine del peccato. Il peccato, quindi, non è tanto una trasgressione ad una legge. Lo staccarsi da Dio è una realtà esistenziale, un'impostazione di vita, una impostazione di pensieri e di mente. I tuoi pensieri, credendo che Dio è amore, o credendo che non esiste niente, non è la stessa cosa. Sono due modi diversi di vivere la vita. Il peccato è sempre contro l'uomo, è sempre un'infelicità dell'uomo. Ecco perché quando noi diciamo il confesso, tutte le volte che andiamo a messa, confesso a Dio onnipotente, perché ho molto peccato in pensieri, parole e opere, ho peccato in pensieri, parole e opere. Fare un pensiero negativo, pensare male degli altri, è un peccato. Ma che allora Dio te la fa pagare? No, no, ce la paghiamo da noi stessi, perché quel pensiero negativo ti fa stare male. La mente non è staccata dal corpo. Se fai un pensiero negativo, brutto, ti fa male lo stomaco. Se fai un pensiero bello, si illumina il tuo viso. Quindi vedete l'importanza del pensiero e come il peccato coinvolge in pensieri, in parole, una parola detta con amore e detta senza amore. Detta senza amore, peccato. Ma no perché qualcuno sta lì a guardarti, vediamo se è peccato. No, una parola detta senza amore non ti lascia dentro la dolcezza. Arriva all'altro come una negatività che non lo fa stare bene. Parole. A volte anche la musicalità delle parole conta. Tu puoi dire una parola con dolcezza o con asprezza. Puoi dire, che stai facendo? Oppure puoi dire, che stai facendo? Vedete, dici la stessa cosa, però una con il peccato e l'altro senza peccato. Quindi in pensieri, parole e opere, le opere. Dice Gesù, un albero, una persona, lo riconosci dalle sue opere. Tu che opere fai? Che frutti dai a te stesso, a chi ti sta vicino? Sono frutti di amore? Di gentilezza? O sono frutti di asprezza? Questo è il peccato. Ecco, per fugare ogni concezione moralistica e giuridica. Quando Dio dice ad Adamo perché ti nascondi? Perché sono nudo? Scusa, ma chi ti ha fatto sapere che sei nudo? La nudità è associata alla sessualità. Cosicché, prima del peccato, vivevano nell'ordine che Dio ha stabilito la sessualità. Come unione fra un uomo e una donna, i due sanno una cosa sola e da questa cosa sola nascere la vita. Dopo il peccato, la sessualità è vissuta non come un atto di donazione, ma come un atto di egoismo. Ecco, e allora il peccato è diventato, il sesso è diventato vergogna. Quindi, vedete che cos'è il peccato? Questo, ripeto, per chiarire un po' le cose, perché molti pensano che un credente sia soggetto a tante restrizioni perché sennò vede tutto peccaminoso. Non stanno così le cose. Il peccato è un male per l'uomo, è una tristezza, è una solitudine, è un egoismo. L'opposto del peccato è l'amore e fa stare bene. Questo salmo mi ha fatto pensare anche a Giobbe. Giobbe era una persona giusta che però ha sofferto tanto, ma tantissimo proprio. E tutti quanti la legavano al peccato, cioè dire, tu stai soffrendo perché hai peccato. Se hai peccato, ecco, ti hai il castigo divino. Mentre qui, il libro di Giobbe dice che non è così. A volte le vicende della nostra vita non necessariamente sono legate al peccato, anzi, non c'è una relazione diretta. Tant'è vero che nei salmi precedenti abbiamo visto che l'embio addirittura prospera. Alla fine del libro di Giobbe viene svelato il mistero della sofferenza. Anche la sofferenza ha un significato che non è legato alla punizione divina, assolutamente. Giobbe dice prima ti conoscevo per sentito dire, ero una persona religiosa, adesso i miei occhi ti hanno visto faccia a faccia. Si scopre il segreto della vita, il segreto di ogni avvenimento. Tutto ha un significato, tutto ha una direzione. E la direzione che ha il cristiano è quella di arrivare alla terra promessa, ne abbiamo parlato tante volte. Se noi prendiamo il versetto 13 di questo salmo, dice così, tendono agguati quelli che attentano la mia vita, quelli che cercano la mia rovina, tramano insidie e tutto il giorno studiano inganni. E quindi qui appare il nemico, quindi nella chiave storica sono i nemici di Davide. Nella nostra vita spiega chi sono i nostri nemici. San Paolo alla lettera agli Efesini al capitolo 6 versetto 12 spiega chi sono i veri nemici nostri. Non sono fuori di noi ma i veri nemici stanno dentro di noi. Paolo dice che la nostra lotta non è contro le creature fatte di carne e di sangue ma contro gli spiriti del male che abitano questo mondo di tenebra. Lo spirito del male guardate che esiste il demone esiste non legge nella mente non ha potere sull'anima ma ha il potere di suggestionare la mente. Tu una realtà la puoi vivere o interpretata dal maligno che ti fa pensare sempre male o la puoi vivere invece vincendo il nemico e il nemico lo vinci attraverso Gesù che è l'amore. come leggi tu la tua storia perché il bene e il male sgorga dal nostro cuore a prescindere da quello che noi viviamo. Gesù lo sapete che aveva tanti nemici sebbene avesse fatto solo il bene lo dice Gesù il versetto 14 ma io come un sordo non ascolto e come un muto non apro bocca c'è il silenzio di fronte a certi fatti della nostra vita è inutile che ci facciamo prendere dalla negatività con tutte le conseguenze ma Gesù ci dà la chiave per poter vivere certe situazioni che ci fanno soffrire ed è il silenzio come Gesù di fronte ai suoi accusatori nel versetto 15 sono come un uomo che non sente e non vuole rispondere a volte è necessario che noi facciamo così e poi nel versetto 16 perché io attendo te signore tu risponderai signore mio dio fidarsi di lui non rispondere perché noi gettiamo nel signore il nostro affanno la nostra sofferenza come dice prima lettera di Pietro al capitolo 5 al versetto 7 dice gettate in lui ogni vostro affanno perché lui Dio ha cura di te per fare questo occorre fede c'è poco da fare ma stai scherzando di fronte a mio marito di fronte a mia moglie litico litico e infatti le coppie scoppiano a volte opportuno il silenzio è importante Dio provvede perché perché ha cura di te quindi è importante come noi reagiamo di fronte al nemico che sta dentro di noi e questo nemico è l'interpretazione dei fatti che ci circondano alla fine nel versetto 22 dice non abbandonarmi signore Dio mio da meno stare lontano vieni presto in mio aiuto signore mia salvezza siccome lo scopo del maligno è il peccato e lo scopo del peccato è staccarci come il peccato appunto originale staccarci da Dio quindi lo scopo del demonio del peccato è quello di staccarci dalla radice della conoscenza che è Dio Dio ha detto che cos'è il bene e che cos'è il male ha detto che il bene è l'amore e Gesù ha incarnato quest'amore incondizionato e totale io pongo a te dice il signore nel libro della genesi questi due calici il bene e il male io ti dico scegli il bene scegli il bene ma non violenterò la tua libertà cosicché se tu decidi di mangiare dell'albero sei libero di farlo come lo è stato appunto nel racconto di Adamedeva lo scopo di questo salmo è soprattutto adesso che siamo in tempo di quaresima e riscoprire alimentare rafforzare questo legame intimo che deve legarci a Dio perché ci ama infinitamente buona quaresima a tutti